E parliamo questa sera dello spostamento dell'asse terrestre e lo facciamo con il ricercatore e biologo Samuele Venturini. Buonasera. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Dunque Samuele, recentemente abbiamo appunto letto la notizia secondo cui l'asse terrestre, gli assi terrestri si sarebbe appunto spostato a causa dell'utilizzo delle acque di falda, quelle sotterranee. Può spiegarci meglio di che cosa si tratta e che cosa è accaduto? Secondo una ricerca appunto l'asse terrestre si sarebbe spostato a causa della captazione dell'acqua di falda, le acque sotterranee, ma dobbiamo sempre domandarci è davvero così? Ebbene questa asserzione in realtà non è dimostrabile, ma perché si basa lo studio appunto su un'analisi fatta esclusivamente al computer, cioè un modello climatico matematico che ha asserito ciò. E quindi non si basa diciamo sulla realtà dei fatti, ma entriamo meglio nel dettaglio. L'acqua di falda, quindi quella sotterranea, si trova a una profondità di circa 10 chilometri dalla superficie terrestre, però ricordiamoci che il raggio dell'intero pianeta è lungo all'incirca 6.300 chilometri in più. La percentuale di acqua di falda corrisponde a circa il 30% del 2,5% dell'acqua dolce globale. Ricordiamo infatti che il 97% circa dell'acqua è acqua salata che copre l'intero pianeta e gli oceani ricoprono il 70,8% dell'intera superficie planetaria. La Terra, o meglio l'asse appunto terrestre, che è una linea immaginaria da polo a polo, ecco che non è mai costante. Cioè la Terra ruota attorno al proprio asse, ma non perfettamente, perché essendo un sistema complesso, risente di molti fattori delle innumerevoli interazioni. Le masse continentali, le masse glaciali, le masse oceaniche, si spostano seppur lentamente. E questo influisce sui movimenti planetari. Ma quindi quali sono le cause naturali dello spostamento dell'asse terrestre? Ebbene, sono tipicamente fattori geostronomici dell'attività solare, ma soprattutto i cicli di Milankovic, l'eccentricità dell'orbita, i moti di precessione e i moti di nutazione. Poi vi sono terremoti, eruzioni vulcaniche, correnti oceaniche. I cicli climatici, ossia i cambiamenti climatici, possono alterare lo spostamento dell'asse terrestre. E soprattutto, anche studi fatti dalla NASA nel 2018, i moti, la dinamica interna del mantello. E poi il rimbalzo glaciale. Si tratta di un tipo di movimento molto particolare, ossia durante i periodi glaciali, il peso dei ghiacci comprime la crossa terrestre. Poi durante i periodi interglaciali, come quello che stiamo vivendo, i ghiacci si ritirano e la crossa terrestre tende a risollevarsi, andando poi a influire quindi sull'asse terrestre, ma anche sul livello dei mari e a propria volta sui cicli climatici. Insomma, i centimetri che ha valutato questo modello in realtà sono all'incirca 4 centimetri, dal 1993 al 2010, ma l'asse terrestre si sposta nell'ultimo secolo di 10 centimetri verso il Canada. Quindi ecco che la variazione naturale copre di gran lunga quello che potrebbe essere anche un evento antropico, come l'utilizzo delle acque sotterranee. Ricadiamo quindi nella geovievoluzione del sistema terra. Samuele, parliamo anche d'altro, perché il 21 giugno scorso si è abbattuto un forte tornado in Texas, ha causato alcune vittime, alcuni giorni fa poi, delle trombe d'aria. si sono abbattute anche sul litorale tirrenico. Come si spiegano appunto questi eventi? Torniamo appunto in Texas. Un tornado di categoria EF3 si è abbattuto, come hai detto tu, il 21 giugno 2023. Ma in realtà, pensa che in Texas accadono all'incirca 132 tornado all'anno e negli Stati Uniti circa 1200 tornado all'anno. Questi eventi naturali e estremi si possono appunto verificare durante tutto l'arco dell'anno, seppur maggiormente tra primavera ed estate, tra marzo e settembre. In Texas il 1967 è stato un anno terribile per il tornado. Pensa che ci sono stati 232 tornado all'anno e 115 tornado in soli 5 giorni. Ma il Texas appartiene alla famosa tornado alley e vicino vi è la Dixie Alley, ossia fasce tipicamente colpite da questi tornado. Spostiamoci in Europa, nel Mediterraneo e anche l'Italia è tipicamente colpita da questi eventi, ovviamente meno intensi rispetto all'America. Si tratta quindi di trombe d'aria e trombe marine. Ogni tanto capita però di vedere appunto tornado multipli, ossia più trombe marine e trombe d'aria generate dalla stessa perturbazione. Anche qui però ricadiamo come sempre nella dinamica naturale e climatica del nostro territorio. Benissimo, grazie dunque a Samuele Venturini per essere stato con noi. Alla prossima. Grazie a voi. Ed è tutto per il nostro telegiornale. Vi lascio ora le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.